Un altro gradito e ormai abituale ospite della giornata sul reno policistico è il dottor Salvatore Campo che è il responsabile nazionale dell'area urologica della società italiana di medicina generale. Noi sappiamo che l'interazione tra nefrologi e medici di medicina generale è fondamentale. Gli chiediamo un parere sulla giornata e quali sono le iniziative che la SIMG ha preso in questo ultimo periodo. Prego Salvatore. Sì, grazie. La giornata sicuramente è una giornata ottimamente organizzata ma sta in linea con le tradizioni ormai AIRP. Cosa fare assieme alla medicina generale, assieme alla società italiana di nefrologia, assieme a una associazione di pazienti? Tanto, tantissimo, per una condizione ancora poco nota. Poco nota non solo al pubblico ma poco nota anche nell'ambito medico, nel suo corretto profilo, nel corretto approccio ai fini di un disease management, di una gestione clinica ottimale. Quale iniziativa? Sicuramente di estendere la conoscenza della malattia sia dal punto di vista epidemiologico ma soprattutto dal punto di vista clinico su come affrontarle e come affrontarne le complicanze. Questo è un impegno che è iniziato un anno fa con alcune iniziative messe in atto e che hanno trovato, hanno avuto degli esiti positivi e adesso con altre iniziative tendono a coinvolgere l'intera medicina generale. Anzi, ne approfitto ai colleghi che ascolteranno questa intervista per approfondire la conoscenza della malattia. Ormai letteratura e dati sulla malattia sono presenti anche nel sito nazionale della società italiana di medicina e nelle sue pubblicazioni per cui ho un invito pressante che faccia i colleghi ad attenzionare in maniera particolare questa condizione e la sua gestione clinica. Grazie a tutti.